A Formia il 22, 23 e 24 settembre si terrà lo University Village, un'interessantissima manifestazione organizzata dal Comune di Formia che ha l'obiettivo di orientare i giovani verso la propria scelta formativa e professionale futura. In questa manifestazione, che dal nome sembrerebbe essere dedicata esclusivamente all'offerta universitaria, ci saremo anche noi. Ci sarà l'ITS Academy Fondazione Giovanni Caboto perché non possiamo dimenticare dell'importanza dell'offerta formativa del sistema ITS. Quindi durante queste tre giorni avremo la possibilità di incontrare i tanti giovani partecipanti attraverso l'animazione di uno stand, l'organizzazione di uno stand all'interno del quale tutti gli interessati potranno incontrare i nostri operatori addetti all'orientamento, avere tutte le informazioni, poter ricevere quindi tutte le indicazioni utili anche per poter poi aderire all'offerta formativa che ricordiamo attualmente proposta dal nostro ITS relativa ai nuovi corsi di alta formazione che avranno prossima scadenza. Ricordiamo infatti che ogni anno gli ITS propongono dei corsi biennali o triennali, nello specifico l'ITS Fondazione Giovanni Caboto, in questa programmazione che sarà la programmazione 2022-2024, propone cinque nuovi corsi riguardanti il settore della marina mercantile, quindi futuri ufficiali di coperta e di macchina, l'ufficiale per il diporto, ma anche la gestione dei servizi ai passeggeri, quindi la cosiddetta hoteleria di bordo rivolta ai diplomati, soprattutto ai diplomati provenienti dal settore turistico, alberghiero, ma anche tutti coloro che anche non avendo una preparazione specifica abbiano avuto esperienze nel settore. E poi per ultimo, ma non meno importante, anzi un'interessantissima offerta formativa riguardante il settore della logistica e questo viene svolto nella nostra sede di Staccata Decinità Vecchia. Ritornando comunque alla manifestazione, quindi durante questa tre giorni ci sarà l'occasione e l'opportunità di incontrarci, di vederci quindi a Formia, a Piazza Vittoria, presso il piazzale Aldomoro, dove è anche stata realizzata, dove verrà realizzata una tenso struttura che ospiterà alcuni seminari tematici. Il 24 settembre nello specifico ci sarà il seminario tematico dedicato proprio all'orientamento e durante il quale ci sarà anche una nostra partecipazione specifica. Quindi relativamente sempre a questo seminario ricordiamo anche l'orario, l'orario che è alle 16.30, quindi sabato 24 settembre 16.30, seminario che vedrà la nostra partecipazione come anche quella di rappresentanti di altri ITS, oltre ad altri operatori e responsabili di Atenei o altre istituzioni sempre collegate alla formazione e all'istruzione. Vi do appuntamento il 22 settembre per l'inaugurazione, quindi a Formia, Piazza Vittoria, piazzale Aldomoro, nella centrale via Vitruvio, quindi nella zona centrale di Formia, dove alle 10.30 del 22 settembre ci sarà l'inaugurazione. Vi aspettiamo numerosi per accogliervi al nostro stand.